Caccia di anime, caccia di anime 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 ma sta forza e vanni indice grazie a me hanno fatto secondo posto vanno in finito il ritorno qui c'è un po' di cosa vedi che stanno pure la gente con la malata qui c'è un po' di edificio sanno due in tessere due in tessere qui c'è un po' di animale fai fuori fai fai fuori non fai animale fai fuori a cui fai fuori a cui fai fuori by fai fuori fai fuori ah vabbè avevo chiesto io amo una volta e non è già formato ma lei c'è la mia tronche non ce la fai e abbiamo un lancio di equipaggiamento c4 e il motore per secondi sta riusciando la riusciamo contro la riusciamo contro la riusciamo contro la riusciamo contro la riusciamo ok io vuh non so Fogliatevi la lancia, andiamo in safe e ti manda lì però No, ti fai, ti manda lì, ti manda lì Poi la lancia, metti lì dentro la casa e mandi e ti è addestrato lui, eh Non lo so Mi hanno visto? 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 E' più in gol Almeno si rimane in arrivo Beh... Ehm... Vedi un nemico Andai Il compagno è tornato in campo C'è qua, c'è qua C'è qua, c'è qua Eh, lo sto facendo Allora qui Sta qua Uso una carica per corante Sta arrivando un nemico Sta arrivando un nemico Sto in alto Sto in qua Ti lo lancio io Vediamo che si sceglie E' in alto Sto in alto Sto in alto Sto in alto Non c'è qua Ed è estremo E' un nemico Un nemico Sto in alto Sceglie Sto in alto Scusi Un po' potrei aiutare Se non per me Un nemico distrutto Tuoi anuncio sono marcati Per la nuova tattica E' venuto E' venuto Mi stanno bruciando mi stanno bruciando Dio loro vai giù vai giù vai giù mi hanno beccato vai giù vai giù c'è una nuova c'è una nuova c'è una nuova persona con una massa da sana pur raffaiglio ma perchè stai in un'altra stessa ora non ho visto che ho veste ma ora è in me ma non devo fare non mi sto ma non mi sto non mi sto stai a una stai a una stai a una stai a una Taffo, quanto è più il lancio, ti aspetta lì? E' una volta, solo tu! Taffo, non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno, non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno, non c'è nessuno! Almeno abbiamo qualcosa per sparare! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Putta il fumogeno e chi va? Colpi di medio calibro! Una granata omogena! Tutti i nemici in arrivo? Sì, stanno qui per te! Un lato dove stanno venendo? Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Stanno sparando! Sto guardando te! Sono guardato a te! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Un nemico in arrivo nell'area! Un lato! Non c'è nessuno! Sto guardando! Sto guardando! Sto guardando! C'è nessuno! Sto guardando! 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 sappiamo dove sono gli altri UAV nemico in volo Gianni Gershain Gianni Gershain Sander saldi comuni prezzi in aggiornamento Staccao 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 Dio Animo Miy deity Spare Staccao S сто Staccao Stacci Aspst Staccao Anfil non c'è il giro 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 si hanno fatto un malumare eh quanto dai bene questo è peggio per me siamo sempre siamo troppo splittati non c'è il giro 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 ma siamo troppo splittati capito cioè 9 kill 9 kill 6 anime eh quando uccisioni c'è 2 anime sappia tutto fa quando uccisioni hai fatto? fai tu non c'è il giro cioè per 20 ma è questa invece adesso sospetto ma perchè ti giro tasca technology te tasca pesca te 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 Ehi due anni mi ha I tuoi amici di stressano Cazzo che si Che fai? Che fai? Ma come ora si muro che fai? Ti faccio dei 20 anni fai Ahhhh Sono giocata in casa Ma non sto Ollo cuoi! Vai Vai ma sei tu concentrato eh, perchè ora siamo in mio team forte Geffo, io sono sempre in mio team forte e ora sei perciò anche io ho in mio team forte siamo in mio team forte ma sei tu, mi raccomando concentrati perfetto, è buono però volessi che vuoi sapere? sto bene volessi apparare qualcosa, si avrei tanto un buon cucchia qualcosa eh, ma buono ah già ci ho fatto fuori seconda posta, e tu mangi tu mangi ah chi ha fatto il secondo posta? ah chi ha fatto il secondo posta? per farlo non giustivo manca, ci ho fatto io il secondo posta ah lo so, e perciò sto domandando chi ha fatto il secondo posta? solo tu figli figli ma... figli io tenevo il riparo mobili capite che facevo? ehm... Stefano mettevo il riparo mobili a no eh eh ma che è una tattica? ehm... 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 paromobile amore ma proprio a fine te lo compro quando vengono i giovanotti malintenzionati tu metti il riparo mobili per capire ehm... 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 c'è la forza fa le panno tante di ferge a papà ehm... 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 c'è la forza fa ehm... ehm... sei tu ma tu ci stai? sei tu? pronto? sì sì sto qua sto qua hai capito che tattica hai fatto? sei pronto? ehm... ehm... no... 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 ti è tutto a posto? no va a pensare a seguire il progetto che tu? e tu ti ho detto, hai fatto un'attezza nello ehm... ahahahah ti ho deciso tu! e lupero devi diccare che c'ho comprato di rieszero a fare ti ho spazzito i fatti tu scriveti che te non li com'è affدato i tessanelli ho fatto un riparo mo fe l' casa qui? posa l'ho spazzito i fatti ah... ah guarda dove spari guarda no fermite in arrivo riscaldamento finito prepararsi al lancio sulla zona di guerra granata partita gas in la ferma fe missione la fai macellaio faraone ma io stamattina l'ho acceso l'ho fatto fare l'aggiornamento guarda ok ora sono asciuto già lo sai ora vivi per tenere la torta no 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 stai giocato cazzo faraone faraone andrebbe così che cosa faccio vuoi fare la torta vuoi fare la torta e 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 guardatevi finchè potete presto entreremo in azione e 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 u e e e ok 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 può poi interessa poi giusto sempre più vicino la pistola e merda già fuori ritengono visto anche una pistola no no era per dire avete trovato le armi voglio la formazione a diamanti ma fa uccelli al canna liscia qui la formazione a diamanti sarebbe? appunto, ponte i busti faccio venire e caddi, faccio venire e caddi, voglio l'arme, l'arme canderno, voglio faccio vare a posso il cerio che venite? v recognised C'è sto Granata parola Ehi, è arrivato Ma ci sta davanti una cosa ancora male Voglio stare qui fuori Corto, corto ancora il jet E' uno si muove, che cosa vuoi fare? E' il jet Sta arrivando un nemico Rido, giù Chi è che ci ha maledetto? C'è uno di strada No, vai, vai, ci sono le quadrette Vai, ci sono le quadrette Nuvi, nuvi Nuvi E' un'esercizio Le quadrette Sono pronti, sei un'esercizio Sei un'esercizio Sì, sei un'esercizio Mi fa più, non è? E' un'esercizio ci sono tutti i colpi vedi i pistoli e il fiume di preda a cantare è un nemico in arrivo nell'area nemico l'attacco è richiesto, bersaglio marcat arriva l'attacco con mortaio ho marcato gli altri operatori di quella squadra stanniamoli puoi fuori l'attacco? sì ma perché non ho l'arma tu lo puoi chiesto dai 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 negativo fuori bersaglio stanno come metto il caffore stanno come metto il caffore oh è stata la re eh è stata la re servono colpi di medio cambio voglio coprire se mi sto restando coprire se mi sto restando è stata la re se mi faccio scendere il caffore voglio vanno fuori oh ahhh voglio...chi è il fiume qua? non siamo troppo deboli fuori 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 aspetta sei tu sei tu dove fuori di più? eh ma è stato lui rimarino sta ero un gistano tempo strano non lo so si a forse non lo so stai ok ok non ce la faccio ce la faccio ma ce la faccio facciamo realizzare così tornerai a combattere a fronte, fatti valere si è morto sono un maschile ma io sono andato, non è cosa n'altro brava va due uomini per averlo compagno tornato in campo vedo come faccio stai dentro stai dentro stai dentro stai dentro voglio farlo su di altra orcio oh oh! faccio parata a scendere, per favore no, non ci si è giura lo so, lo so, non sto dicendo a te sono bene, sono bene sono solo qui sotto stai facendo che sta scendere, un capo Così si puoi fare Vabbè si puoi fare Vabbè si muove C'è il chino c'è il chino Che si puoi fare Vabbè si tratta sotto Non lo succederà Sto in questo周 Vabbè ne spinami Qua Si tratta ehi dai stai tu ehi dai stai tu ciao ciao che fai? Faraone stai ho marcato gli altri operatori di quella quadra sai tu ma io sto scendendo mi sparo nel volo e voi già venivano 10 secondi 10 secondi sono pure no vado ma si perché rimane sempre uno è una sola persona rimane sempre una persona e perchè vendeci veste i coni sono pronti non lo volete un compagno è tornato in squadra bene se no brossaglio a terra marco i tuoi compagni ma che fai scendere un vana? stai scendendo proprio spesso non mi prendi l'arma della terra non mi prendi l'arma della terra e mi? stai fuori vieni qua vieni stai scendendo stai scendendo sono qui mi piace riuscire a trovare stai scendendo stai scendendo stai scendendo allora vuol dire che hanno fatto scendendo tu lo scendendo stai scendendo e poi stai scendendo c***o ma controllo stai scendendo stai scendendo Un'altra libri qui Spitte, spitte, spitte Ah, che è morto? Che è morto? Tu li stai? Ah, che l'avevo? Ah, è stato un brucco di indietro E' giusto, tutto non è scosso Sì, vieni qua, vieni qua Sì, 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 sì Sì, sì, sì Ah, un re lord Sì Un re lord Ottima uccisione Marco, il resto della squadra sulla mappa tattica Buona caccia Sì, non è Ma io, ma io, ma io Ma io, ma io, ma io Ma io, ma io, ma io Ma io Ci hanno fatto manco scena Non mi hanno fatto Non mi hanno fatto Ma io Non mi sono andato Ma io mi sono andato Quals gliel'app Rossi che abbiamo, vai Davvero Guarda però diciamo guarda tu e Raffaele arrostati ehi ma ci faici un po' tu guardi quando arrosti faici nooo hai capito? Zaffo sto dicendo una cosa però sto dicendo già tutti stai allontanando e Raffaele sta 300 metri a te eh ma perchè lui non cazzo che si chiama fallo su lui? cioè io non mi capito Zaffo non sto dicendo che voi andate là non sto dicendo che voi andate là e state splittate sto dicendo anche adesso che siete scesi vi state splittando e chi è scesi? non solo quando accende penso che ci mette l'appuntamento tutto è quattro e una parte è proprio per timorua Raffaele ah vado a fare l'aroceno eh ci siamo a... non lo sai posso prendere pure? si ma ci metti voi ci spostiamo all'aroceno nooo stanno distruggendo stanno distruggendo stanno distruggendo stanno distruggendo stanno distruggendo stanno distruggendo in quest'area vocecchina la che si può come fa? te ci sono te lo do ti metti che c'è non è proprio tu te lo do sei 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 che cosa che c'è sono marcati sulla mappa tattica l'obiettivo è eliminare tutti i bersagli l'obiettivo principale raggiunto bersagli eliminati c'è una foto l'obiettivo è l'obiettivo un soldato nemico in arrivo vado a chissà vado a chissà è morto non so è giusto il gen stai di grado, guardi ti mostriamo ancora da no, no, rimaniti per c***o cazzo e ricorte rifornite, prendete quello che mi piace Compagno tornato in campo Ben fatto Lancio di equipaggiamento alleato Non c'è un nemico Lancio vicino al caio Il gas è sempre più vicino Ritorno sta per finire Mi raccomando Una parte del tuo team è fuori dalla zona sicura Infatti non so che le stai a fare Non è riuscita di sottopolo Sottopolo Di team è localizzato Ah 엄마 A casa Qua ci vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Consigli un riscettino Sotto fatti grazie io dal luce fermiamo la volta avanti avanti sono no chi sta cosa ci sono non lo scrivono bene mi vuole che? non lo so non lo so nemico in arrivo nell'arco è stato il cibo guarda qui che p***o capite che c***o guarda qui c'è chi succede c'è chi succede no non lo so no non lo so c***o non so non lo so non lo so non lo so che c***o non lo so no no chi c***o non lo so purtroppo è più facile che questo non lo so praticamente è una specie di morti è diventata su scala grande ma che l'ha specie di morti ma ci vuole un altro legato mamma mia di natale approfitta natale and e e e e e Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. 5 sedi non ci bloccano a tutti preparativi terminati ora si entra in azione bambola il fisico perfetto da fatto mamma bello kawasaki per ogni batteria lavato ritorno finché vivi i tuoi compagni possono ritorno finché vivi i tuoi compagni possono riassare uccidi bersagli per rischierarli prima indica un punto di lancio per la squadra io fanno uno si può fare la cosa è però facciamo il macellaio e mi fai a chi manca il macellaio il macellaio ritorno hai un testo macellona non lo vedi ti vedi a te ok ma non lo vedi non lo vedi questo è un po' che si me lo vanno guarda il macellaio guarda il macellaio guarda il macellona nemico in arrivo nell'area ma io vi ho vado l'arma no ma c'è l'aria vado che non vuole il roba vado vado dove stai sparando tu decisione confermata eh giappo vuoi rimanere no ma no attenzione c'è una squadra nemica sulle tue tracce fai ammolato l'uomo c'è l'aria in arrivo che buon amici sto che è saltata la mission dodge c'è l'aria l'aria è saltata marco una mitraglietta ma io voglio sto pingando la roba eh il tuo team è nella zona sicura ma io sono là voglio sto spettando il buio per chi là c'è luce ma vicino a questi cosa è start eh vai 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 che è luce ma non è zombo tutto vado 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 progetti muado vado 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 è solo che sto dai mi ha fatto un po' di giallo 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 guarda mi ha fatto un po' di giallo mi ha fatto un po' di giallo guarda, non è completato ora ci metto all'interno ora ci metto un po' di giallo è un po' di giallo c'è un po' di giallo ma in fronte in fronte in fronte in fronte c'è un po' di giallo devi devi che non ci metto non ci metto chi se vuoi non ci metto in fronte non ci metto No... Oh! No! Ah ma buono non ha il dommo! No! Non c'è più attenzione Gli c'è più attenzione Oh! Oh! Sì, non lo so! Sì, non lo so! Sì, non lo so! Lascio delle corazze! Vite un po' di più! Sì, non lo so! Vedi corazze, l'abbia di zezerlo! Vedi che in linea, come si faccio faccio! Sì, non lo so! 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 Ma era la parola, non lo so! non lo so perchè si incontra guardi non sto sparando hai sparato sempre perchè non lo faccio oggi c'è fuori di culo stanno per te stanno eh non so stanno andando ma cosa che cazzo cazzo è che chi sto vai vai ti dirai una morte guardi ma stanno sparando 100 spara pure all'altro screta l'ho e riparte sono in arrivo ma che cazzo cazzo è che lo si cazzo però per esempio sta cosa non è giusto ah non è giusto no ci sto cadendo frate ah è giusto basta spara devi andare si spara a chi Ah Ciro l'ha già fatto Ehi Oglia Il stander è ancora Andiamoci dentro Ah ma che poto farci pure fuori Ah certo pensi sì non lo so Non c'è mai un'altra Ah ma non è scusa no non è scusa Raffè spara Raffè Ah ma ci sono tutti i neri Hai capito ci hanno buttato fuori Ah no niente L'attimo è fatale Ah ma è in patrota Ah perché ci sono neri E io ci sono Sto portare l'apertura potrà essere chiunque Ah hai capito I tuoi amici sono marcati sulla mappa classica E poi Ma che mi fa male Eh ma io Vabbè ma tu sai fuori luci E' verissimo ovvio Ma a me non ti fa una amica Ehi 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 Ah vinto il ciclo, non voglio Afonso sta in grado Ma va al cilio No, che cilio, state fuori Sì, sì Loro sì Ecco, ma fai su Siamo in avvicinamento Stiamo scendendo un drink No, non puoi di più 10 per 1 Non puoi di più Raggiungi la zona sicura Ma vai, mamma mia Non mi bomba, ragazzi Ha fai un gas Ma chi te ci si confusa? Ah no, non ci vanno sempre le fai No, già fai certamente camberata Che si va Si vanno Ma vai Ha spinto, va fai Non ci vanno In arrivo No, non ci vanno mai Sto due, vai giù Sto due Sto tutto qua Sto tutto qua Sto tutto qua Non vieni fuori Quasi no Un luogo Oh Guarda, adesso Potremmo arrivare a dire Un gioco Sto qua Ah boh, è sceso Salvatore No Sto tutto qua Sto tutto qua Sì 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 Ma Ricognitore Alleato In volo Avrai un'altra possibilità Non fregare! E' multinonna tu! Un compagno è tornato in squadra! Bene! Con'è? Non sparrarvi! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? In zona! bring out! Viopardi! Abbiamo! Signorle! Bufo di bersagli marcato, sterminateli! Sì, non c'è nessuno. a folle fanno uno postaggio a folle fanno uno postaggio è una cosa che ho detto io però stanno in ben centro è una cosa importante mi piace no a folle fuste io ho fatto una scommessa ti hai messo qui già ho messo qui ho messo i genocchi che l'hai fanno che i professionisti non è questo che adesso è morto ma non me l'ha segnato me l'ha segnato non me l'ha segnato ma c'è un treno che ha fatto ma gli sto cercando i vanini stanno facendo un po' destino va bene va bene non preoccuparti ce la farà non ti muovo proprio ma ma chi c'è tu? su e giù no 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 tu non è già fuori ah hai spinto non ti muovo 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 uccisione confermata sappiamo dove sono gli altri non ti muovo era morto il fortissimo in arrivo voglio lo sto lo stavo vedo si equipaggiamento marcato attenzione ritorno non più attivo si fa sul serio guardo il ritorno con l'interno non ci stai nascendo dai lo sto sono vicino al lanchetto eh ah tagli sta sotto, guarda si guarda abbassare tutto questo ma io sto vicino al lanchetto sto vicino al lanchetto sto vicino al lanchetto basta che sta al fondo oh la fretta diverto la stagione oh cani bersaglio uccidi bel lavoro qua io mi giocherò tutti giocherò tutti io non ho colpito sto lancho lei dove ci lanciate ho messo le colpi ah non fai le colpi non no i maschi i maschi ah no ah no ah no ah no ah no io vevo fuoco ah no ti vuoi gassare stiamo stiamo in ottimo per build up a bench oh oh ah boi ah Vabbè sto scemi dai! Sì, vado sto scemo! Sto rinno, sto rinno! Sto rinno, sto rinno! Sto rinno, sto scemo! Gatti in movimento! Vado, metta a svegli il set prima! Certo! Allora, e dove si fa il lufo? De dove? Beh, dove si fai il lufo? Eh buة, varam 괜찮아 Vici? Vienes un pozzo fa niente? Che ne d감이?? anche la munizione non posso fare niente ma la faccio la safe si cambierà ancora dieci è quasi fatta e cambierò e cambierò rifugiamo si vuole almeno almeno che l'amma vincere ma già fa con forza la cosa migliore io ce l'ho stata una vita per fare potrò fare già un'altra chi l'entravi tutti si che i campioni mondiali quando vengono si accostano la nessuna eroe uccisi oa che te ne chi l'ha allengo un luogo a bruno a bruno a bruno per esempio solo di scena la modalità è stato tutti scima giallo tutti gli sticco acrobatici il movimento almeno io potrò mandare un blocetto in pazzo bene questo io ho disfascato questa cagata ah si purtroppo è così non ne parlo a me che è andato in occupazione buono chiede se è ancora peggio non ne parlo a me che c'è ah lo so fin l'elevena è sicuro perché qui sai tu praticamente è un multi è uguale un multi ma non ne ho fatta manca essere fatto a fare acquare un multi c'è è messa notturno i zombie e cose però metto pure una malità normale che io non so la malità normale eh c'è una malità normale boh nooo non so non so fare sto BR Quartetti hai spietto amore eh ma è sempre notturno eh però non trovo il burdel come qua che fai il mappolo eh è sempre notturno però non trovo a chi si fa scatenati nooo ma vabbè stai città ma ci fai un rumbo cazzo papà era notturno proprio capì come qua e metto normale punto e basti ah io levo ne ho male non ci capisco eh purtroppo questo ma ci fa su eh non che mi fa la parama sera ora ma ma quando vuole non lo so quando vuole eh il smule non lo so quando vuole 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 Grazie. Non c'è il build con la pistola mitraglietta, non piace. Non è già la brutta bottiglia d'acqua, non manca anche di uno stallo a fuori, vero? Preparate la testa, manca poco. Non è già la brutta, manca poco. Non è già la brutta, manca poco. Non è già la brutta, manca poco. Sta arrivando un nemico, attenzione in alto. Guarda. Guarda. Ehi. Non c'è l'inferno, non c'è l'inferno, non c'è l'inferno. Non c'è l'inferno, non c'è l'inferno. Fine dell'addestramento, vediamo cosa avete imparato. Lancio un fuoco! Placato., E l'ultimauyor, non è in gente che близca il più di 7. Entend considered 7, capito no? Guarda come dicevi che io fai solo su non è bucicare chi? guarda che cuffie, non lo sai guardiamo mi pensa che se c'è sottolineato la rossa né zumbi la rossa sottolineata non mi chissà né zumbi è te ma zumbi chi è qui? camminati ma non c'è forte forte diamo una forte 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 muovi me è già andato eh nemico in arrivo nell'area vado in è giù fatto è molto forte bravo non c'è è giù ora fai si trovano a me non c'è chi non c'è chi non c'è non c'è vado a sabaturi non c'è sei lento o fu non c'è 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 ha fatto si si è non c'è No, 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 no. No, 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 no. Il tuo team è nella zona sicura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no c'è una roccaforte, non muovere la roccaforte c'è una roccaforte, c'è una roccaforte c'è una roccaforte c'è una roccaforte c'è la roccaforte Grazie a tutti. 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 e' andata direzion io devi che salto più in un resto aspira fai mantieni amore aspira vieni che sta andando con l'acqua non so perché beca niente che cazzo è stato un po' di non muovere a me è fuori sono in un che cazzo sta facendo la gente qua occhi aperti è una città fantasma lancio di equipaggiamento per voi non basta non c'è un po' non c'è nulla non c'è nulla non guarda che mezzo non guarda che mezzo guarda guarda i pietà guarda i pietà guarda i pietà andiamo a me ebbeneve un po' di potezza ebbeneve che succederà sai, è come caccia me, per chi lo fa? ebbeneve che ci mettere non ci sono abbiamo fatto sono fatto ci troviamoci tocca la potezza ancora venticinque continua così no, qualcuno che fu per il «Eccolo Paret che si ma fuori non c'è quanto si non ma fuori si non ma fuori si non C'è un po' di liceo Bicare il bambino MA SIGLA OICI 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 SIGLA OICI 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 una ragazza kastino avvicinamento nuova zona sicura è una cosa strana che si accade scusa, perché non possiamo trasferire? eh, perché si diceva non è giusto, non è giusto guarda, non è giusto non è giusto non è giusto non è giusto, non è giusto non è giusto gas in avvicinamento, raggiungere la nuova zona zona sicura gas in movimento e avvicinamento non è giusto gu include sul e vera si vuoi sull' witch è lo oh dai vabbè ma voglio istacan si io e istac istac, rimanamo già su 67 va bene e io e ci beckamo rimanimo ciao